Musica Benvenuti a questa nuova puntata di Salute, cari amici. Noi come ogni anno nel periodo natalizio ci ritroviamo per raccontarvi della raccolta alimentare, questa colletta che si ripete anno dopo anno grazie al Banco Alimentare non solo in Campania ma in tutta Italia. E noi oggi ritroviamo con grande piacere il dottor Roberto Tuorto che è il direttore del Banco Alimentare Campania con la sua pettorina quando vedrete la puntata naturalmente la giornata si sarà conclusa ma insomma ora siamo proprio nel vivo. Noi ci siamo incontrati in questi anni, abbiamo più di una volta detto che anche il Covid è stato insomma un'ulteriore mannaia su tutti quelli che già stentavano ad approvvigionarsi proprio dei beni di prima necessità. questo trend, chiamiamolo così, negativo sembra non avere fine? Sembra non avere fine, prima di tutto voglio ringraziarvi perché di questa attenzione che avete nei nostri confronti e in quello che facciamo è segno di una grande sensibilità di cui vi ringraziamo di cuore. Sicuramente il Covid ha rappresentato l'inizio di un periodo veramente difficile per tantissime famiglie ma oggi vediamo che sta continuando, terminato il Covid ha cominciato la guerra, adesso le guerre questo diciamo così ha rappresentato anche un aumento vertiginoso dei geni di prima necessità parliamo di un'inflazione ormai incontrollata intorno al 20% significa che con gli stessi soldi si compra il 20% di spesa in meno significa che tante persone devono decidere addirittura se curarsi o se mangiare c'è una povertà alimentare, c'è una povertà educativa che la dispersione scolastica per questo banco alimentare invita tante scuole e tanti ragazzi a fare la giornata e la colletta alimentare perché riteniamo che sia prima di tutto un gesto educativo diciamo infatti ai tantissimi volontari ne abbiamo 5.500 in questa giornata in oltre 900 supermercati in tutta la regione sono oltre 120.000 in Italia e questo chiaramente fa presagire molto molto bene perché vuol dire che i giovani ci sono dobbiamo stare con loro e cercare di chiedere loro un po' della cosa più preziosa che ciascuno di noi ha che è il tempo come giustamente dice Papa Francesco non è il tempo, lo trovi a proposito di Papa Francesco questa colletta sposa in pieno l'idea della giornata mondiale credo contro la povertà che non è solo una povertà economica come diceva lei ma è anche una povertà forse di spirito e un gesto come quello di comprare qualcosa in più può aiutare ma lei ha fatto riferimento ai giovani raccontiamo come la colletta alimentare il banco alimentare mi scusi si sta spostando anche sul web proprio per coinvolgere anche i giovani tantissimo soprattutto i social ci sono tantissimi ragazzi che oramai interagiscono solo quasi ed esclusivamente con i social noi poi abbiamo sposato sin da tre anni fa una bellissima campagna che si chiama School Movie in cui entriamo in tutte le scuole della campagna e chiediamo ai ragazzi di scrivere e registrare un cortometraggio con delle parole chiave l'anno scorso abbiamo usato condivisione quest'anno speranza perché secondo noi è un momento in cui certo manca il lavoro manca il cibo manca la casa manca quasi tutto a tante persone ma manca soprattutto una cosa che è fondamentale per ripartire che è la speranza è come se non abbiamo speranza che le cose possano migliorare per questo la colletta è un momento in cui abbiamo scelto questo claim facciamo un gesto concreto insieme questo insieme per noi è fondamentale perché come diceva madre Teresa la prima povertà è veramente la solitudine non dobbiamo essere da soli anche un gesto semplice e piccolo come questo può fare in modo che mettendoci insieme possiamo portare un po' di speranza alle persone poi come giustamente solo un inciso la giornata mondiale che è domani non a caso la colletta l'abbiamo deciso di metterla il giorno prima è la giornata mondiale dei poveri perché il problema non è sconfiggere la povertà perché noi non abbiamo un problema come dire di risolvere un problema apparentemente sociale ma abbiamo il problema di stare vicino alle persone perché il Papa dice i poveri non sono numeri ma sono volti, sono storie, sono cuori noi abbiamo nel Banco Alimentare la frase di Don Primo Mazzolari che dice i poveri non si contano i poveri si abbracciano a proposito di poveri da abbracciare però secondo i numeri in vostro possesso ci sono più poveri da soli o più famiglie? è cambiato anche da un certo punto di vista la famiglia tipo prima c'erano tante famiglie numerose oggi abbiamo la richiesta da tante persone sole vuoi perché diciamo che le famiglie non durano più come una volta se lo vogliamo dire ci sono tanti anziani soli che è un fenomeno che purtroppo nel nostro paese si sta diffondendo molto non è la prima volta che addirittura leggiamo sui giornali che viene trovato un anziano che magari è deceduto da diverso tempo e nessuno se ne è accorto e il dramma è questa solitudine qualche ringraziamento perché so che il Banco Alimentare si avvale non solo di questi volontari tantissimi ma anche delle forze dell'ordine e di tanti altri questo per quanto riguarda poi la seconda fase cioè quella della distribuzione assolutamente in questa colletta alimentare dall'esercito forze dell'ordine finanza, lions, alpini, poste italiane abbiamo davvero tantissimi d'altra parte è una macchina credetemi veramente complessa che lo dicevamo prima è molto più facile chiedere soldi è molto più complesso chiedere cibo spostare cibo, distribuire cibo quindi un grande ringraziamento a tutti quelli che permettono questo ma soprattutto a quelli che lo permettono tutti i giorni perché come giustamente salute spesso fa notare a tutti il Banco Alimentare lavora 365 giorni all'anno sono 400 le organizzazioni territoriali che lavorano con noi e sono oltre 180 i comuni che quotidianamente distribuiscono cibo per conto di Banco Alimentare Anche l'assessore Lucia Fortini che è assessore alle politiche sociali ha voluto essere presente in questa giornata che si ripete anno dopo anno con numeri, lo abbiamo sentito prima dall'intervista al dottore Tuorto che insomma preoccupano Preoccupano sicuramente i numeri delle persone che sono sotto la soia della povertà ed è giusto con gesti concreti dare una mano alla fine fa riflettere il fatto che un piccolo gesto che noi compiamo può però portare veramente un sorriso sulla tavola di tante persone per cui cerchiamo di dare l'esempio Grazie Grazie